Gli alunni delle quarte e quinte classi della scuola elementare a Squashat di Sanremo ieri sono stati ricevuti dal capitano Paolo Di Alescandris, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo, da altri militari in servizio presso la caserma di Villa Giulia. Durante l'incontro al quale sono stati accompagnati dai propri insegnanti, i bambini hanno potuto visitare la caserma della Compagnia di Sanremo e conoscere dai vicini i carabinieri. Tali visite sono organizzate nell'ambito del ciclo di incontri che l'Arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio della provincia.